Valeria Mancini torna su Instagram dopo il caso Capodanno ad Amici 22. La cantante è stata eliminata nella puntata di domenica 15 gennaio dopo la sfida contro Cricca. Tornato in studio una settimana dalla sua eliminazione, visti i fatti gravissimi accaduti la notte di San Silvestro, sui quali regna ancora il totale riservo. Maria De Filippi non ha chiarito i dettagli di quanto accaduto, per questo circola nel rete diverse teorie. Tra queste, la questione noce moscata che gli allievi colpevoli dei fatti avrebbero sniffato o fumato. Valeria, in arte guerra, con un video condiviso su Instagram e TikTok ha fatto chiarezza. Ho pagato le conseguenze per un'ingenuità. La sfida era una delle possibilità e io l'accetto. Quello che non posso accettare è che io venga associata a delle supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo dire non dire ha dato modo alle persone di poter ripotizzare le peggiori cose. L'ex allieva ha spiegato che per tutela di minori la produzione non ha potuto raccontare i dettagli dell'accaduto, ma attraverso i video il pubblico avrebbe potuto notare la sua innocenza. Ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto? Grazie. 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 Grazie.